buongiorno a tutti allora abbiamo la colazionciona del gigione colazionciona merendone cappuccino con cioccolato crafe e muffin oggi va così questo passava al cerichito quindi avevano praticamente già finito i muffin ci ne erano rimasti solo due meno male c'era il crafe perché sennò veramente aiuto aiuto arriva il lupo eccolo qua faccio vedere bene così mi viene fame mi viene tanta bella famora e naturalmente poi ci vediamo alla prossima che stasera devo farvi da mangiare da un vi mangerò dei panozzi stasera non di felici e contenti dopo la partita detto questo ragazzoni vi saluto vi ringrazio e ci vediamo naturalmente alla prossima ciao